Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare un piccolo gioco veramente di quelli tascabili di carte molto molto divertente Vi parlo di Batroom Rush, un gioco di Marco Caloi edizione Back to Brain e distribuito da Daltenda Che io ovviamente ragazzi vi ringrazio tutti quanti, soprattutto Marco e appunto Back to Brain Grazie di avermi offerto questa copia per la recensione, il gioco veramente molto carino Ci ha fatto scompisciare delle risate a me e mia moglie, è un gioco molto particolare di carte Perché lo scopo è di riuscire a fare la fila, andare al bagno, svuotarsi Non voglio dire una parola di più perché poi dopo mi leva la monetizzazione, YouTube mi fanno problemi al canale Però non farsi la cacca addosso, se te la fai addosso sei fuori dalla partita Ve ne parlo a breve, dopo la sigla Batroom Rush è un gioco da 2 a 5 giocatori Dell'età di 14 o più, l'età si potrebbe abbassare veramente a 8 anni Per la semplicità delle regole Però, e i disegni poi è molto in chiave umoristica Quindi ci sono i segnalini pipì, i segnalini pupù Non ci sono assolutamente parole volgari, niente del genere Però forse sì, per il tema trattato era politicamente corretto mettere un'età del genere Ed è un gioco molto bellino e veloce perché poi dovete mettere Ora vi faccio vedere un po' come funziona, come un giro in turno Però vi dovete disporre in fila E dovete riuscire ad arrivare in fondo al bagno a svuotarvi prima di farvelo addosso Ovviamente gli altri giocatori, le carte stesse Quindi le altre persone in fila davanti a voi dietro di voi potrebbero agirvi contro Però lo stesso gli altri giocatori potrebbero a volte usarvi delle carte contro Perché ci sono delle carte difese e cose del genere Quindi il vostro scopo è arrivare al bagno chimico prima di farvelo addosso Vi faccio vedere un pochino come funziona, ve ne do un'idea Ma prima di tutto, unboxing, Batroom Rush Un gioco di Marco Caloi, spero sia non Caloi E della Back to Brain E vedete anche il disegno è molto carino Il classico bagno chimico, tutto scritto Quello che si trova a tutte le fiere E soprattutto ne mettono sempre una decina in fila Luca Comics e un ciameverzio Sono tutti chiusi o c'è sempre qualcuno dentro E la confezione è piccolina, guardate rispetto alla mano Abbastanza spessa, perché c'è un po' di contenuto Più che altro carte Ed è un gioco molto veloce e appunto semplice come regole Apriamo Abbiamo il regolamento che è una striscettina Che ci fa vedere più che altro Ci dice come disporre le cose Ed è molto bellina Infatti vedete le regole in cima Ci deve sempre essere il gabinetto Sei carte e persone Il vostro personaggio e uno dietro Il vostro scopo è scalare la fila Per arrivare fino in fondo senza farvela addosso Ed è veramente ragazzi facile Vi fa vedere un po' le regole, i colori delle carte A seconda del colore hanno un effetto particolare O possono entrare in gioco in un momento particolare Insomma, è veramente semplice Segnalini pipì in giallo Segnalino cartegienica Guardate che figata Anche qui dietro ovviamente E poi segnalini pupù Questi quando ne accumulate 4 in gioco Ve la siete fatta addosso e siete fuori dalla partita Dadi Nel taglio di 6 e di 4 E basettine di plastica Per tenere le porte dei bagni Che sono queste qui E sono anche molto carine Come tipo cartoncino dure È bello spesso tra l'altro E tutte quante le carte di gioco Che sono le carte giocatore Vedete, questo qui siete voi in fila Divisi per colore Poi dentro ci sono le carte azione Le carte difesa E altre persone NPC Che sono i problemi che vi capiteranno davanti in fila Questo è il tavolo da gioco Per una partita a 4 giocatori Dovete sempre mettere una fila bagno in più Perché sarà possibile tramite alcune carte Spostarsi da una fila ad un'altra Quindi dovete Anche se questa come vedete è una partita a 4 Ci dovete mettere un bagno in più E questa qui è la fila che abbiamo lasciata libera Perché vedete qui ci sono i personaggi Nei vari colori Che dovete sempre disporli Gabinetto chimico Qui davanti VC chimico 6 carte coperte Carta personaggio E una carta dietro Quindi 6 in fila davanti a voi E uno dietro Mentre invece nella fila Quella libera Ne dovete mettere soltanto 6 Quaggiù abbiamo tutti quanti I segnalini Pipì e pupù Più il dado da 4 Che serve a fare una cosa molto particolare Che ora vi vado a descrivere Per ciascun giocatore Diviso per il proprio colore Dovete dare un breviario Che oltre a essere Un riassunto del turno E delle regole di gioco Che dietro vi fa vedere Anche a seconda del colore Cosa fanno le carte Che poi vi farò vedere Dovete metterla accanto Al giocatore di quel colore E lui sopra Poi ci andrà a mettere I segnalini pipì e pupù Mazzo delle carte azione Generale Da cui ciascun giocatore All'inizio del proprio turno Deve pescare 3 carte Però a fine turno Se ne possano ottenere Soltanto 3 Quindi comunque Quelle in eccesso Andranno sempre scartate Nel vostro turno Potete averne anche più Del massimale in mano Ma quando finirà il turno Dovranno rimanervene in mano Massimo 3 La prima cosa da fare Per ovviamente Tutte le file È quella sempre di girare La prima carta che vedete c'è scritto Persona in fila Davanti al bagno Quindi questo è l'ultimo step Prima di arrivare in fondo Va sempre girata La prima carta in cima E quella adiacente Al vostro personaggio Quindi se il vostro personaggio Si trova qui Sono queste due Se il vostro personaggio Fosse qui Sarebbero quest'altra Quindi quello davanti E quello dietro Quelli adiacenti Ok A seconda del colore Della carta Che vi capita Sul breviario C'è scritto Quando quella carta Può entrare in funzione Ad esempio Una carta arancione Quando si attiva Quando la carta È adiacente A un giocatore Quindi questa carta qui Si attiva Quando è adiacente A un giocatore Leggete sempre dietro i colori Per quello che vi dice La carta breviario O anche il regolamento La striscettina Tanta è veloce Perché alcune carte Non si attiveranno Sempre appena le rivelate Le carte sopra Vedete le persone in fila Hanno dei simboli Vedete qua sopra Hanno dei simboli Che ad esempio Questo qui vuol dire Che viene giocato Su tutta la fila Di cui fa parte Oppure ci sono altri simboli Come ad esempio Il bagno Che vogliono dire Che quella carta Entra in funzione Soltanto quando è Nello step del bagno Quindi la fila Davanti ai bagni chimici Seconda cosa del turno Dovete risolvere L'effetto delle carte Persona Quindi da quella In bagno Fino all'ultimo Della fila Tutti quelli Che sono in campo Rivelati Li dovete risolvere Poi Arrivata nella fase Delle azioni Potete o Giocare una carta azione Che sono queste Qua giù E che ciascun giocatore Ve l'ho detto Quante ne ha In manna all'inizio E anche queste Sono diversificate Per colore Quando le potete giocare C'è scritto in cima Lo vedete anche sempre Qui col simbolino Quindi questa è una carta Che va utilizzata Esclusivamente Nella porta Davanti al bagno Questa invece Va giocata direttamente Sulla fila E le carte verdi Sono le carte difesa Queste le potete giocare Anche fuori dal vostro turno Certi effetti Possono richiedere Da applicare Il dado da 6 Quando girate le carte Davanti al bagno E quelli adiacenti Ai vostri personaggi Per come stromano Nella fila Ovviamente ragazzi Quelli già scoperti Devono rimanere E quindi anche se Il vostro personaggio Fa vari step E va avanti Quelli rivelati Finora non dovete Ricoprirli Devono restare Comunque sempre rivelati Dovete mettere I segnalini Che ci sono scritti Quassù sulla carta Quindi lui Genera ad esempio Un segnalino PP Come ci è segnato qui Lui ne genera 3 Più un dado Blu Quindi questo qui Che è il Il costipato Non solo ne genera 3 gialli E questo è un bel problema Perché lo vado a descrivere Perché 3 PP Ma devi tirare anche Il dado da 6 E mettercene addirittura Altri 2 Quindi questo ne genera Addirittura 5 E poi tutti gli atti Insomma c'è scritto sopra Per le abilità E quello che vanno a generare Ora Questi che vedete qua sopra Si prendono A fine del turno Ma non del vostro turno A fine del turno Di tutti i giocatori Perché quando tutti i giocatori Verranno fatto la preparazione Giocato la carta E finirà il turno Ciascun giocatore Sul proprio breviario Che è questo qua su Che vi ho fatto vedere prima Dovrà prendere Sulla riga dove si trova I segnalini Che erano sulla carta in cima Ovviamente questa persona Almeno che non abbia Un effetto persistente E cose del genere Una volta che è entrato nel bagno Ovviamente ha fatto Quello che doveva fare I bisogni Viene spostato dietro Nello scarto E tutti gli altri Vanno avanti Andando avanti Ovviamente se non avete superato La fila Restate sempre Nell'ordine prestabilita All'inizio E poi dovete girare un altro E ce ne andate a mettere sopra I segnalini Come prima cosa Un'altra azione Che potete fare È decomprimere Ovvero che potete Lasciarvi andare A una puzza Vada come vi tocca Chiamarle no E dovete tirare Come c'è scritto Sulla carta Il dado Da 4 E vedere cosa succede Con un risultato di 1 Prendete Un segnalino pipì Con un risultato di 2 Ne prendete 2 3 ne prendete 3 4 prendete Un segnalino pupù Quindi prendete Questo segnalino pupù Marrone E lo mettete Sul breviario Come ci ricorda La leggenda Ogni 5 segnalini Pipì È un segnalino pupù Ogni 4 segnalini Pupù Avete perso La partita Quindi il primo giocatore Che ne raggiunge 4 E non ce l'ha fatta Andare in bagno Ha perso Ha perso la partita Quando usate L'azione De comprimere Automaticamente Quello dietro di voi Quindi La persona Che è dietro di voi Viene automaticamente Scartata Perché le avete appena fatto Una scorreggia in faccia Ci sono Ovviamente Non vi faccio vedere le carte Perché sono tante Ma ci sono Tante carte E tanti effetti di gioco Ricordatevi sempre Che questa è una carta difesa Che potete usare Anche fuori dal vostro turno E poi ci sono carte Di tantissimi tipi Soprattutto anche qui C'è la maschera Antigas Divise per colore E vedete Ci sono veramente Tante tante carte azione Che dovete studiare per bene E leggevi insomma Gli effetti Comunque È un gioco veramente veloce E lo scopo del gioco È riuscire A superare la fila E arrivare fino in fondo Al bagno Senza prendere 4 segnalini Pupù Quindi senza farvelo addosso Se un giocatore Arriva fino in fondo E ci sono anche lì Vari regole Riesce a vincere la partita La partita O si ferma E finisce subito E lui è il vincitore O altrimenti La partita continua Ancora per un turno Dando la possibilità A tutti gli altri giocatori Di finire La propria mancia Il proprio turno E quando sarà finita Ovviamente si andrà a vedere Chi sarà il giocatore Che ha vinto la partita Ricordatevi sempre L'unica regola Che come prendete 5 segnalini pipì Li dovete convertire In un segnalino pupù Come arrivate a 4 segnalini pupù Siete fuori dalla gara Avete perso la partita In conclusione Batroom Rush È un gioco veloce È un gioco Piccolino È un gioco tascabile Ed è un gioco per tutti Ripeto Secondo me l'età Che c'è scritta anche sopra 14 o più È soltanto per un fatto Che come gli sgorbio Zaltempo Ve le ricordate Le figurine Non erano volgari Alla fine fine Cioè Sì erano volgarotti Ma buttata sullo scherzo Sul ridere Sul grottesco Sul giocoso Non era sicuramente Una cosa volgare Che c'era da Da schifarsene Ecco Una cosa del genere Però sicuramente Per il tema trattato Potrebbe essere delicato Per qualcuno Insomma secondo me È un'età messa più Ve l'ho detto Per il commercio Politicamente corretto Che non altro Quindi è assolutamente Un gioco Alla portata di tutti Contenuto Sia come spesa Che come confezione Tutto quanto Trasportabile Ed è un gioco Che vi fa divertire Perché quello Che deve fare E poi è un gioco Da tavolo Come anche Un gioco per il computer Un romanzo Qualsiasi cosa Un film È divertirci Ma questo Oltre a divertire Come regole Che è veloce Ci strappa Anche un sorriso Che è quello Che deve fare Quindi secondo me È un gioco Veramente molto 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 interessante Faccio i miei complimenti A Marco Caloi Per l'idea Che ha avuto Perché sicuramente Marco Dimmi che non è vero Ti sarà capitato Chissà quante volte Di essere in fila Per andare un bagno Come me A tutti i Luca comics E trovare davanti La fila in mezza E eri lì E eri lì Alla fine ho fatto Mi stanno talmente tanto Sulle scatole Queste situazioni Che ci devo creare un gioco E le idee meglio Nascono proprio al gabinetto Come si dice sempre Quindi se le devo dare un voto Assolutamente le do Un 7 su 10 È un giochetto ragazzi Veloce Più un filler Però va sicuro È molto divertente E vi strappa analizzate E poi Se siete fanatici Come me Degli Sgorbions Questo è veramente Il gioco che fa per voi Anche per lo stile Per come sono disegnate le carte È veramente molto interessante Ringrazio ancora una volta La Back to Brain Per avermi un'offerta Una copia per la recensione E vi ricordo Se volete acquistare Giochi da tavola E giochi di ruolo Link in sovrimpressione E primo link È in descrizione Direttamente da Board Game Discount Trovate i migliori prezzi Sul mercato E potete pagare I giochi a rate In tre rate Anche senza bisogno Di fare i finanziamenti Quindi primo link È in descrizione Tutti i nostri social A seguire E fatemi sapere Cosa ne pensate Per me è veramente valido E promossa a pieni voti Vado al bagno A prossima Grazie a tutti